L'asfalto reso viscido dalla pioggia è tra le principali cause dell'incidente che ieri sera verso le 20. Ha visto protagonista una coppia che viaggiava su un'autovettura in via 24 Maggio a Sant'Elena nella bassa Padovana che è uscito dalla carreggiata rovesciandosi sul fianco. Sono subito scattati i soccorsi per estrarre il conducente e la passeggera rimasti feriti. I vigili del fuoco arrivati da Este hanno estratto la coppia per consegnarli ai sanitari del suo M118 che li hanno stabilizzati e poi trasferiti in ospedale. Non sono in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro.